Torna per il secondo anno consecutivo l'iniziativa sulle rotte della mente promossa dalla Lega Navale di Mandello dell'Ario in collaborazione con il Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze di ASS Tilecco. L'edizione 2018 dell'uscita in barca a vela che vedrà protagonisti anche quest'anno pazienti, familiari, volontari, operatori e velisti si terrà sabato 30 giugno con ritrovo a mezzogiorno. Questa nuova iniziativa, spiega Gianna Cerasoli della Lega Navale di Mandello, testimonia ancora una volta l'attenzione del nostro sodalizio nei confronti del sociale e delle fragilità e dimostra il desiderio e l'interesse di far conoscere questo sport a più persone. Trascorrere una giornata in barca a vela è un modo per divertirsi stando tutti insieme all'insegna della socialità, conclude, abbandonandoci alle bellezze del nostro lago e al piacere di condividere un'esperienza per alcuni assolutamente inedita. Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto riscontri molto positivi tra i pazienti del Dipartimento, per questa seconda giornata sul lago si prevede la partecipazione di un centinaio di persone, bissando così i numeri raggiunti nel 2017. La barca a vela favorisce il benessere globale dell'individuo e rappresenta per i pazienti con patologia mentale un aiuto anche dal punto di vista cognitivo e risocializzante, sottolinea la dottoressa Simonetta Martini, responsabile dell'area territoriale, salute mentale e dipendenze di ASST, nonché presidente della Lega Navale Mandellese. Questo sport richiede infatti attenzione, favorendo così un atteggiamento di presenza e stimola la collaborazione tra gli individui che si trovano ad interagire nel rispetto delle regole e dell'altro. E non appena si alzerà un po' di breva, via con gli equipaggi che prenderanno il largo.